Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire l'amplificatore NobSound A3, che è un amplificatore ibrido valvolare transistor. In particolare la sezione di preamplificazione è completamente valvolare, mentre la parte di finale di potenza è a transistor ed è in classe AB. Prima di iniziare con l'unboxing vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo da non perdervi le prossime recensioni. E voglio specificare anche che l'amplificatore mi è stato mandato dalla NobSound, per testarlo e recensirlo. Nel video vedrete infatti che l'amplificatore presenta qualche segno, per esempio il potenziometro è leggermente ammaccato o presenta qualche segno di utilizzo. Molto probabilmente prima di arrivare nelle mie mani è passato tramite qualche altro recensore che non è stato molto attento all'utilizzo di questa macchina. Bene, ora possiamo subito iniziare con l'unboxing. La scatola è abbastanza grande e anche piuttosto pesante. Per prima cosa troviamo una busta di plastica contenente il manuale di istruzioni e il telecomando. Infatti qui possiamo vedere il manuale che è scritto totalmente in inglese e anche il telecomando che esteticamente non mi fa impazzire però è fatto abbastanza bene. Andiamo poi a capovolgere l'imballo in modo da togliere facilmente l'amplificatore. L'amplificatore che è ben protetto da due riempitivi morbidi e da un sacchetto di plastica. Ora vi faccio vedere meglio l'amplificatore da tutti i suoi lati così potete apprezzarne la bellezza. Infatti secondo me è veramente molto molto bello questo amplificatore. Durante l'unboxing mi sono dimenticato di registrare la parte in cui toglievo il cavo di alimentazione. Infatti in dotazione troverete anche un classico cavo di alimentazione per alimentare l'amplificatore. Vediamo ora il pannello frontale dell'amplificatore che presenta il classico tasto di accensione e spegnimento. Una volta che l'amplificatore viene acceso si illumina la retroilluminazione del piccolo v-meter e anche la retroilluminazione delle valvole. Abbiamo poi il tasto select che ci permette di selezionare i vari ingressi. Questi ultimi vengono visualizzati in altro da dei led che ci indicano quale ingresso è attivo al momento. Abbiamo poi il potenziometro per la regolazione del volume che è di generose dimensioni. Poi abbiamo un'uscita cuffie con jack da 6,3 mm. Poi i due tastini per mandare avanti da traccia e mandare indietro la traccia che servono quando viene utilizzata la presa USB con una chiavetta USB. Andando a vedere poi la zona delle valvole troviamo le due 6P16A e dietro di esse troviamo le due 13P1P. Dietro le valvole poi coperto da un coperchio in plastica si trova il trasformatore di alimentazione. Vediamo anche il piccolo V-meter purtroppo non posso farvi sentire l'audio della canzone altrimenti YouTube mi censurerebbe l'audio del video per i motivi di copyright. Comunque vi potete apprezzare il movimento dell'ago e del V-meter. Non spaventatevi se l'ago arriva in zona rossa o va a fondo scala infatti il V-meter è tarato per andare in zona rossa quando arriva a una potenza di 5W. Quindi possiamo andare tranquillamente anche a fondo scala che tanto l'amplificatore ha comunque una grande riserva di energia. Molto probabilmente i costruttori hanno deciso di tarare il V-meter a una potenza così bassa perché altrimenti a volumi bassi l'ago non si muoverebbe praticamente mai. Analizziamo ora il pannello posteriore dell'amplificatore. Troviamo l'ingresso digitale ottico, l'ingresso digitale coarsiale, un'uscita per collegare un subwoofer attivo, poi due coppie di ingressi analogici RCA, in particolare una illuminata a CD e l'altra a DVD, però possiamo collegarci a qualsiasi tipo di sorgente che abbia un'uscita analogica. Poi troviamo le uscite per gli altoparlanti, cassa destra e cassa sinistra. Poi il selettore che ci permette di selezionare se stiamo utilizzando l'apparecchio con la rete a 220V o a 110V. È importante lasciare selezionato 220V e controllare che quando vi arriva l'amplificatore sia impostato su 220V altrimenti facciamo esplodere subito l'amplificatore. Infine troviamo la vaschetta VDE per l'alimentazione con il relativo porta fusibili. Andiamo poi a vedere il telecomando che a parer mio esteticamente non è bellissimo, però devo dire che il telecomando è molto comodo se si vuole pilotare l'amplificatore tranquillamente sdraiati sul divano. In particolare troviamo il tasto MUTE che ci permette appunto di mutare l'amplificatore, il tasto MODE che va a selezionare sequenzialmente i vari ingressi, la freccettina su e la freccettina giù che permettono di regolare il volume, la freccia a sinistra e la freccia a destra di schippare le tracce e di scegliere la traccia precedente quando utilizziamo il bluetooth o l'ingresso usb, il tasto PLAY PAUSA. Questi tasti vengono ripetuti anche sotto dove abbiamo ancora il tasto PLAY PAUSA e il tasto SKIP precedente, poi sotto abbiamo il tasto M, freccetta sopra e freccetta sotto che ci permettono di selezionare i vari ingressi, poi abbiamo il tasto STOP e il tasto REP che non hanno nessuna funzione e poi abbiamo il tasto più o meno con le freccette che ci permettono anche se di regolare il volume. Non è presente un tasto per accendere e spegnere un amplificatore, infatti l'accensione e lo spegnimento avviene solo tramite il tasto fisico sul pannello. Vediamo ora brevemente le caratteristiche tecniche che dichiara il costruttore di questo amplificatore. Abbiamo come ingressi audio il bluetooth 5.0, l'ingresso equassiale ottico USB, PC USB, quindi si intende che si può collegare al PC e quindi funziona come scheda audio, e anche Udisc che significa che possiamo inserirci una chiavetta e selezionare i vari brani sulla chiavetta e due coppie di RCA. Poi ci vengono indicate le uscite, ma le abbiamo già viste. Ci viene indicato che l'ottico equassiale ha un sample rate di 16 bit e 48 kHz, quindi non possiamo dargli in pasto brani ad alta risoluzione, ma solo brani di qualità standard CD. Ci viene indicato che con la chiavetta supporta i file MP3, WAV, FLAC, APE e WMA e supporta chiavette di una dimensione massima di 128 GB. Ci viene indicato il tipo di valvole, poi l'impedenza che possono avere le cuffie che ci vengono collegate, in particolare da 16 a 600 Ohm, e la massima potenza di uscita è di 15.000 W su 32 Ohm per quanto riguarda la parte di amplificatore e cuffie. Poi il costruttore dichiara una potenza di uscita di 35 W per canale su 4 Ohm e di 25 W per canale su 8 Ohm, cosa che poi andremo a verificare nella parte di misurazioni. Poi l'impedenza dei diffusori che ci possiamo collegare che è da 4 a 16 Ohm, la risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, il consumo di corrente che è di 100 W, una sensibilità di ingresso di 600 mW, un rapporto segnale-umore maggiore o uguale a 84 dB, una THD dello 0.1%, una separazione tra i canali maggiore o uguale di 75 dB, le dimensioni che sono di 163 mm per 253 mm per 175 mm, è un amplificatore diciamo di medie dimensioni, non è grande come un classico amplificatore Hi-Fi, ma non è neanche piccolo come per esempio gli AIMA o i FOSI Audio, quindi è una via di mezzo. Il peso netto dell'amplificatore che è di 3,5 kg e il peso con l'imballo che è di 4,5 kg. Di questo amplificatore non ho eseguito lo smontaggio in diretta perché ho provato a smontarlo ma la costruzione dentro è veramente complicata, ci sono delle schede attaccate al pannello posteriore, delle schede attaccate al pannello del fondo, è molto complicato da smontare quindi anche ho provato a smontarlo, l'ho smontato una parte ma non riuscivo a tirarci fuori delle buone riprese e neanche delle buone foto. Vi posso però dire che i transistor utilizzati per la parte di amplificazione di potenza sono una coppia di C5198 e una coppia di SA1941. Passiamo ora alla parte di misurazioni elettroacustiche e andiamo a vedere per prima cosa la risposta e frequenza su un carico da 4 ohm e un carico da 8 ohm. In particolare nel grafico la curva verde rappresenta la risposta su un carico da 8 ohm mentre la curva rossa su un carico da 4 ohm. Come possiamo vedere le due curve sono scalate di circa 0,2 dB ma sono su tutto lo spettro perfettamente identiche a differenza di tutti gli amplificatori che ho provato precedentemente dove le curve erano diverse specialmente a frequenze alte questo perché tutti gli amplificatori che ho provato precedentemente erano di classe D e quindi avevano il filtro d'uscita mentre qui abbiamo un classe AB che non presenta questo problema. Vediamo anche che l'amplificatore non è perfettamente lineare infatti dai 100 Hz fino ai 20 Hz abbiamo una specie di campana che ha un aumento di 1 dB e anche sopra i 10 kHz fino ai 20 kHz abbiamo un aumento di circa 1 dB poca roba, 1 dB è anche difficile da udire ad orecchio. Notiamo anche che sopra i 20 kHz la risposta crolla totalmente questo significa che gli ingressi analogici vengono trasformati in digitale per essere elaborati in qualche modo da un amplificatore e poi vengono trasformati in analogico utilizzando un DAC con una frequenza di campionamento di 48 kHz. Se proviamo a misurare la risposta di frequenza entrando in digitale infatti otteniamo le stesse identiche curve che abbiamo entrando in analogico. Andiamo poi a vedere la differenza che c'è fra il canale destro e il canale sinistro notiamo che le due curve sono perfettamente identiche sono scalate di circa 0,4 dB misurazione ottenuta quando il potenziometro era a metà della sua corsa. Andiamo ora a vedere la potenza che riesce a decorare questo amplificatore rispetto agli altri video ho deciso di postare interamente il grafico di misura della distorsione in funzione della potenza in questo grafico vedrete infatti sull'asse X la potenza in Watt mentre sull'asse Y vedete la percentuale di distorsione. Quando gli amplificatori infatti arrivano alla massima potenza iniziano a distorcere in modo esponenziale e secondo le norme DIN il dato di target di potenza di un amplificatore deve essere dichiarato qua al punto in cui la distorsione arriva all'1%. Dal grafico possiamo quindi dedurre che l'amplificatore ha una potenza di 30 Watt su 8 Ohm con entrambi i canali in funzione e di 35 Watt su 4 Ohm con entrambi i canali in funzione. Se invece andiamo a testare la potenza utilizzando un solo canale otteniamo sempre una potenza di 30 Watt su un carico da 8 Ohm ma la potenza sale a 45 Watt su un carico da 4 Ohm. Scusatemi se sul grafico ho deciso di scrivere le scritte in inglese ma ho visto che c'è un buon 20-30% di miei scritti che sono inglesi e quindi visto che il video è in italiano e vi spiego io i dati di targa almeno per loro che devono leggere i sottotitoli magari risulta più facile comprendere i grafici. Ho deciso inoltre d'ora in poi di tenere una specie di classifica delle potenze dei vari amplificatori che testo sul canale e come potete vedere in questo grafico infatti sono rappresentati tutti gli amplificatori che ho testato con le loro relative potenze. In particolare in blu troviamo le potenze su 8 Ohm e in rosso le potenze su 4 Ohm. Come possiamo vedere il nostro NobSound A3 per ora si colloca al primo posto cioè l'amplificatore con meno potenze tra quelli che ho testato. Andiamo ora a vedere la distorsione di questo amplificatore. Se non avete ancora visto il video precedente a questo che parla appunto della distorsione spiega come capire i grafici di distorsione vi consiglio di andare a vederlo altrimenti non riuscire a strappire questa parte di misurazioni. Quindi se non avete ancora visto potete cliccare in alto a destra che vi comparirà adesso il link per andare direttamente al video. Allora questo grafico è stato ottenuto con una potenza di 5 Watt su un carico da 4 Ohm e possiamo vedere che abbiamo una seconda armonica con una differenza di 64 decibel rispetto alla fondamentale una terza armonica a 72 decibel una quarta armonica a 89 decibel una quinta armonica a 74 decibel una sesta armonica a 89 decibel una sesta armonica a 79 decibel e così via ci sono altre armoniche. Calcolando la THD utilizzando tutte queste armoniche otteniamo una THD dello 0.129% che è abbastanza scarsa dobbiamo tenere però in considerazione che la distorsione che abbiamo maggiore è quella di seconda armonica che è una distorsione pari quindi una distorsione che diciamo che è piacevole all'orecchio ed è molto probabilmente introdotta dalla parte di preamplificazione valvolare. Abbiamo però ben presenti anche la terza armonica la quinta armonica e la settima armonica che sono armoniche dispari che molto presumibilmente derivano invece dalla parte di potenza a transistor. Andiamo poi a vedere anche la distorsione di intermodulazione possiamo vedere che abbiamo un livello medio di distorsione di circa 68 decibel e abbiamo una frequenza di distorsione peggiore attorno ai 4500 Hz che ha una differenza rispetto al segnale a 0 dB volt del multitono a circa 57 dB di differenza. Calcolando la media delle distorsioni quella a 68 dB otteniamo una distorsione percentuale di 0,0398% mentre calcolando la percentuale della peggiore a 57 dB otteniamo una distorsione dello 0,141%. Visto che mi rendo conto che questo tipo di misurazioni sono molto tecniche e complesse per darvi un'idea voglio farvi un paragone con altri amplificatori che ho provato in particolare con la IMA T9 che anche lui è la parte di preamplificazione a valvole e la IMA T9 Pro che è l'evoluzione del T9 e anche loro sono degli amplificatori loro sono amplificatori in classe D mentre questo è AB però hanno anch'essi la parte in preamplificatrice a valvole. Lo paragoniamo per primo con il T9 e vediamo che in rosso abbiamo il nostro knob sound A3 mentre in blu il T9 vediamo che il T9 si comporta a livello di distorsione abbastanza peggio soprattutto per quanto riguarda le frequenze dai 1000 Hz in su rispetto al knob sound mentre se lo paragoniamo al T9 Pro il knob sound esce un po' sconfitto perché il T9 Pro ha una media di distorsione più bassa rispetto al knob sound A3 anche in questo caso il knob sound rimane il grafico rosso mentre il T9 Pro è il grafico azzurro. Come per la potenza d'ora in poi ho deciso di fare una classifica anche per quanto riguarda la distorsione degli amplificatori in questo grafico a barre trovate infatti la THD e la WPD che mi sono permesso di coniare io questo termine perché non sapevo come nominarla ma è semplicemente la Wors Peak Distortion cioè sostanzialmente è la frequenza di distorsione peggiore quindi quando andiamo a mettere un multitono all'amplificatore quindi più frequenze e andiamo a misurare la distorsione questa è la frequenza che ha praticamente la distorsione peggiore quindi sul grafico delle X troviamo i nomi dei vari amplificatori sul grafico delle Y troviamo la percentuale e le barre blu rappresentano la percentuale di THD dei vari amplificatori e le barre rosse rappresentano la percentuale di Wors Peak Distortion degli amplificatori come possiamo vedere il nostro knob sound si pone tra la IMA T9 Pro e la IMA T9 a livello di distorsione quindi ha una distorsione leggermente peggiore rispetto alla IMA T9 Pro ma nettamente migliore rispetto alla IMA T9 ovviamente non può competere con per esempio il FOSI BT30D Pro la IMA T9 Pro perché quegli amplificatori non hanno la parte preamplificatrice a valvole che intrinsecamente introduce della distorsione specialmente della distorsione pari veniamo ora alle note d'uso e di ascolto l'amplificatore è molto comodo e versatile infatti ha il telecomando che è molto comodo possiamo selezionare gli ingressi, il volume tranquillamente seduti sul divano senza dover cercare ogni volta ha gli ingressi digitali quindi possiamo collegarlo tranquillamente al televisore, al bluetooth quindi possiamo collegarci bluetooth e sentire le nostre canzoni col bluetooth è veramente molto comodo ha la possibilità di collegarci la chiavetta quindi a livello di versatilità e di semplicità di utilizzo è davvero buono per quanto riguarda il suono non aspettatevi un suono preciso e pulito come quello degli amplificatori in classe D che ho provato sul mio canale il suono infatti qui è comunque buono ma non raggiunge i livelli di pulizia che hanno gli amplificatori che ho provato precedentemente in particolare quando andiamo ad alzare il volume senza dargli un segnale sentiamo anche che ci sono dei fusi di fondo e dei ronzii che a parer mio sono imputabili alla parte di preamplificazione a valvole che raccoglie disturbi e li amplifica infatti questi disturbi li possiamo anche sentire collegandoci un paio di cuffie all'uscita cuffie quindi derivano proprio dalla parte di preamplificazione a valvole quindi io li ho provati su diffusori con un'efficienza di 90 decibel e stando anche a 3 metri dai diffusori quando c'è silenzio si sente comunque ronzio dell'amplificatore quindi se questa è una cosa che vi disturba l'ascolto è un amplificatore che non fa per voi perché è abbastanza rumoroso per quanto riguarda invece proprio il suono in sé il suono è comunque buono i bassi sono belli profondi non sono molto frenati quindi per chi piace il basso bello fermo anche qui non è un amplificatore che fa per voi gli altri sono ben definiti non sono eccessivamente raffinati ma sono molto dolci difficilmente graffino le orecchie sono molto delicati questo forse merito delle valvole diciamo che nel complesso è comunque un amplificatore che si fa apprezzare per il suo suono questo amplificatore lo consiglierei a un amante delle valvole o a una persona che si vuole avvicinare al mondo delle valvole ma non ha la possibilità di spendere almeno penso 1000 euro per un amplificatore a valvole da una trentina di watt non può prendere un amplificatore più economico a valvole ma a bassa potenza perché spesso ci sono degli amplificatori economici a valvole ma spesso hanno una bassa potenza 7 watt 5 watt e se non si hanno dei diffusori abbastanza efficienti sopra i 93-94 decibel gli amplificatori sono troppo poco potenti qui abbiamo una parte di amplificazione a valvole che ci introduce la distorsione pari ci introduce un po' il suono delle valvole ma abbiamo una parte in classe AB a transistor che ci fa invece la parte di amplificazione e ci dà un po' di sostanza non lo consiglio invece a chi non frega niente nelle valvole sta cercando solo un amplificatore con l'ottimo rapporto qualità prezzo a quel punto conviene orientarsi sugli amplificatori che ho provato sul canale precedentemente amplificatori in classe D in quel caso abbiamo un suono migliore un costo più basso ovviamente perdiamo però il fascino delle valvole e l'estetica del prodotto che secondo me comunque hanno un valore inoltre lo vedrei bene anche su un secondo impianto di servizio visto che abbiamo un'enorme versatilità con ingressi ottici, prese USB quindi lo vedo anche per un amante delle valvole che vuole un piccolo amplificatore di servizio su un secondo o terzo impianto che costi relativamente economico secondo me per questo tipo di impiego potrebbe andare molto bene veniamo ora ai voti finali per la potenza ho dato un 7 per le misurazioni un 6,5 per il suono un 7 per il design un 9,5 per la versatilità un 9 e per il rapporto qualità prezzo un 7,5 per quanto riguarda il prezzo questo amplificatore si trova su Amazon ha un costo di 234,80 euro io ho sempre detto che è un amplificatore economico e voi direte cavolo è forse l'amplificatore più costoso che hai provato beh sì però dobbiamo tenere in considerazione una cosa mentre gli amplificatori in classe D che abbiamo provato precedentemente sul canale hanno semplicemente un alimentatore switching un chip in classe D prodotto da un'altra azienda e un circuito stampato relativamente semplice per farlo funzionare qui invece abbiamo dei materiali e dei componenti che costano molto di più abbiamo un trasformatore che ha un costo abbiamo le valvole che hanno un costo tutto il case è più grande che ha un costo il dissipatore interno per i transistor quindi diciamo che per il tipo di prodotto quindi per un amplificatore classe AB con la parte di più amplificazione a valvole questo tipo di prodotto è molto economico penso che anche solo acquistando separatamente i vari componenti si superi tranquillamente la cifra a cui questo prodotto viene messo in vendita vi ricordo che in descrizione del video trovate il link Amazon per andare a vedere il prezzo del prodotto aggiornato infatti può essere che il prezzo cambi visto che i prezzi su Amazon cambiano giorno per giorno quindi vi consiglio di andare a vedere nel link in descrizione del video per vedere il prezzo aggiornato vi ricordo che è un link affiliato infatti se voi acquistate questo amplificatore o qualsiasi altra cosa su Amazon passando attraverso il mio link Amazon riconoscerà una piccola percentuale che in futuro mi potrà servire per migliorare il setup di misurazioni del canale in descrizione al video vi lascio anche il link dello store ufficiale DoCaudio NobSound in cui viene venduto l'amplificatore grazie di essere arrivato fino alla fine del video ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto grazie e al prossimo video grazie a tutti